Presidente, quanto le piace questo Cassano? Bene lui, ma bene gli astri anche perché ha fatto una partita intelligente, bravo allenatore, ha fatto una partita prudente, intelligente, tenendo la palla, era necessario far così e l'hanno svolta bene. Stramaccioni si arrabbia molto con chi definisce l'Inter provinciale, lei come risponde a queste critiche? Boh, ma una definizione, un'aggettivazione che penso che sia venuta male chi l'ha fatta, nel senso che non mi sembrava che venga la partita di una squadra indifesa, no, credo che abbia sbagliato quello che ha detto, lui giustamente ha ripreso il fatto di voler comunque dire qualche cosa di negativo anche se si sbaglia a dirlo. Quanto è importante aver ritrovato un Ranocchia così dopo un'annata comunque negativa? Lui insieme a Kwan rappresentano la coppia del futuro per l'Inter. Sì, la coppia del futuro, ma stiamo vivendo il presente, quindi ci sono anche gli altri che sono forti, questi hanno tempo e modo di crescere, se vanno avanti come ieri, molto bene. A te c'è questa squadra magari un po' più accorta, ma sicuramente più cinica? Sì, certamente cinica, c'è bisogno di un po' più di velocità, ma ieri credo che sia stato giocato intelligentemente.